Mai, mai 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 e poi mai mettersi contro Jose Mourinho, specialmente se i numeri non sono dalla vostra, ne sa qualcosa il povero Frank De Boer L'olandese, ex Inter esattamente come Mourinho, aveva criticato lo Special One riguardo l'utilizzo di Marcus Rashford, match winner della sfida tra Manchester United e Liverpool Ospite dei colleghi di BT Sport, De Boer, a inizio stagione sulla panchina del Crystal Palace, aveva parlato di Rashford e sottolineando come fosse, un peccato che sia allenato da Mourinho E la replica, naturalmente, non si è fatta attendere Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Siviglia Mourinho ha colto l'occasione per rispondere a De Boer Lo Special One è stato impietoso, ho letto delle cose, alcune frasi del peggior allenatore della storia della Premier League, Frank De Boer 7 partite, 7 sconfitte e 0 gol Dice che per Rashford non è un bene avere un allenatore come me Beh, se fosse stato allenato da Frank avrebbe imparato a perdere perché Frank ha perso tutte le partite Io provo a dare ai miei ragazzi la migliore educazione da questo punto di vista Su Marcus devo essere onesto e dare il merito alla gente che lavora alla nostra Academy che l'ha formato e a Luis Van Gaal che l'ha lanciato in prima squadra Se fosse stato allenato da Frank avrebbe imparato a perdere perché Frank ha perso tutte le partite Sono molto soddisfatto di Marcus, sotto tutti i punti di vista Gioca ogni partita dall'inizio, ovviamente no Ne gioca alcune dall'inizio, mentre Alter volte entra dalla panchina Ma non in molti pensavano potesse partire titolare con Liverpool e invece l'ha fatto, giocando una bella partita e non solo per i gol segnati Ripeto, sono molto soddisfatto di Marcus Insomma, Mourinho non si è fatto sfuggire l'occasione per sparare su De Boer, cacciato a inizio stagione dopo 7 partite con 7 sconfitte e 0 gol fatti La lezione è sempre la stessa, in termini di comunicazione, mai mettersi contro lo Special One, video Mourinho Conte, attacco e contrattacco, ecco com'è nata la diatriba Grazie a tutti